Ciao, ciao Pedro! Beh, insomma, tocca da te quella segnale all'ultimo minuto, festeggiare sotto la curva, ti ho visto subito correre. Sì, molto contento per fare un gol, aiutare la squadra di nuovo e fare questa vittoria che per noi è molto pesante, molto importante in questo momento e siamo tutti contenti, io pure per aiutare la squadra a fare un gol di nuovo, è una notte bellissima. Tu sai, insomma, la Champions, ne hai giocare tantissimo, hai vinto tantissimo, quanto dà una vittoria così all'ultimo istante in uno stadio come questo? Secondo me dà molta importanza perché alla fine siamo in un momento delicato, soprattutto al campionato, ma in Champions questo tipo di vittoria così al finale dà molta allegria, molta fiducia alla squadra e vediamo se possiamo fare una bella prestazione di nuovo contro Atalanta che sarà una partita molto difficile pure. Continui a lanciare dei messaggi molto chiari a Maurizio Sarri, non tanto con le parole ma parli sul campo. Anche questa volta sei entrato per pochi minuti e hai portato a casa tre punti fondamentali, sei pronto per tornare titolare anche in campionato? Sì, io sempre lavoro per questo, sempre voglio giocare, è vero che è difficile entrare perché i compagni stanno facendo bene, però io sono a disposizione sempre della squadra, lui dopo Maurizio ovviamente decide che cosa fare, ma è importante lavorare bene, essere con la squadra e essere sempre a disposizione per entrare e aiutare come ho fatto oggi. Cos'ha questa Lazio, come sta? Ti chiedo un tuo parere, perché fino adesso è un po' altalenante, anche in questa partita ha faticato parecchio, di solito il gioco lo ce l'ha sempre in mano la Lazio, anche in questa partita a tante occasioni sono passate in mano al Celtic. Non lo sappiamo, penso che stiamo crescendo poco a poco con tutti i giocatori nuovi che hanno arrivato adesso, però stiamo giocando bene, manca qualche cosina che dobbiamo migliorare, però stiamo lavorando su questo e l'unica cosa che manca secondo me è pure la continuità dei risultati, alla fine dobbiamo trovare questa strada perché quello è molto importante per continuare con fiducia, per continuare con allegria e per farlo bene da qui a finale della stagione. Ma che punto sta la Lazio secondo te di questo cammino per tornare importante? Non lo so, ancora presto per dire qualcosa, come ti dico, però è vero che dobbiamo migliorare queste due o tre cose che mancano e così andare avanti come abbiamo fatto l'anno scorso. Ma tu come stai? Perché qualcuno dice che a Petro se ne vuole andare, a gennaio va via, come sta Petro? Che vuole fare? No, io sto bene, sto sempre lavorando per entrare, ovviamente quando si gioca di meno è difficile per ogni giocatore, non solo per me, però io lavoro sempre per farlo bene, per stare al massimo, per aiutare la squadra e dopo lui è l'allenatore che decide chi gioca e io devo essere pronti per aiutare i compagni della squadra e per questo sono qua e voglio continuare qua. Grazie.